Prima faccio una microintroduzione su questo sistema delle mappe mentali, in caso qualcuno non lo conoscesse. Le mappe mentali consistono nel rappresentare graficamente il nostro pensiero. Paradossalmente quando elaboriamo informazioni col sistema tradizionale, utilizziamo una lingua che non è quella che usa la nostra mente. Quando scriviamo in bianco e nero su dei fogli bianchi, le parole chiave vengono oscurate dalla massa di parole che servono per rendere comprensibili quei concetti. Per rendere più chiaro questo, nell'istante in cui vi chiedessi di pensare alla parola cavallo, probabilmente ciascuno di voi ha in mente un'immagine di un cavallo specifico, di un colore particolare, collocato anche in un determinato posto. E molto probabilmente nessuno di voi ha pensato al font utilizzato per scrivere cavallo e nessuno al corpo carattere. Questo per comunicare che la nostra mente ragiona per immagini, ragiona per associazioni di idee e elabora informazioni in bianco e nero, scusate, a colori e non in bianco e nero. Queste caratteristiche sono quelle che sono inserite all'interno delle mappe mentali. La mappa mentale ha la struttura di un neurone. Qui la vedrete zoomata, ma dopo nella vostra area del sito di Performance Strategies vedrete la mappa intera, nella sua completezza, per avere la visione di insieme. Andiamo quindi con questa mappa ad approfondire i concetti approfonditi dal professor Vercelli. La prima domanda che ci ha fatto è stata a quale categoria apparteniamo? Agli opinionisti ingenui che si basano su le opinioni degli altri e ormai a giochi fatti, oppure siamo dei professionisti specializzati che hanno dei parametri completamente diversi, vanno a caccia di errori per imparare dall'esperienza, si basano su indicatori di prestazione e infine questo gli permette di fare delle previsioni. È fondamentale avere una struttura di riferimento per essere dei professionisti specializzati. Questa struttura si deve basare su della teoria, su un modello. Il modello in questione che abbiamo visto è il modello Sfera, dove è un acronimo che serve per ricordare sincronia tra quello che vive il nostro corpo e quello che vive la nostra mente, il qui e ora. Forza. Per essere dei buoni leader è fondamentale riconoscere i punti di forza degli altri rispetto a guidarli. L'esempio che è stato fatto è quello degli atleti che hanno difficoltà a riconoscere i loro punti di forza. Uno dei suoi insegnamenti è stato dato da Harry Lorraine, un famoso illusionista che quando sale sul palco in mente ha la frase no more problems, ovvero fai le cose che ti vengono in automatico, le altre le affini a casa. E sta per energia. Se ne usiamo troppo poca siamo deboli. Se ne usiamo troppo tanta, allo stesso modo, siamo deboli. Dobbiamo calibrare il livello di energia. Dopo è fondamentale utilizzare il ritmo. Il fatto che sorridiamo... Più una cosa è strana ed esce dalla normalità, più si riesce a memorizzare facilmente. E quindi utilizzo immagini di questo tipo. E dobbiamo avere il ritmo per poterlo chiedere agli altri. Quando conduciamo delle persone, siamo noi i primi stessi a dover guidare con esempio, l'attivazione è invisibile ma è fondamentale perché è quello che ci permette di trasformare il pensiero in azione, il motore motivazionale. È stato approfondito il concetto di metodo. È fondamentale il metodo perché rende possibili le cose impossibili. Il metodo in questione è APCD che consiste di quattro fasi. La fase di analisi, poi abbiamo l'ottimizzazione, la verifica e il mantenimento. Il concetto di mantenimento è stato detto che deve essere orientato sempre al miglioramento. E poi la struttura di riferimento si basa chiaramente su delle tecniche. Ha dato dei parametri per valutare la prestazione umana. Quali sono i fattori? Sono le risorse tecniche per le risorse umane. Ma tutto questo deve essere contestualizzato perché alla base ci deve essere quel modello che deve essere ripetibile. La frase che ha detto è non è pietre operai uguale piramidi, ci vuole un modello. E poi abbiamo toccato l'argomento della leadership. Ed è stato detto che tutte le teorie precedenti non sono in realtà funzionali. E l'esempio di Bob Paisley le va a smontare tutte quante perché lui non rientrava in nessuno dei modelli precedenti, però era un esempio di grande leader. Il suo segreto è quello che usava tutti gli stili. Quali sono questi stili? Il primo, direttivo. Un concetto che è stato visto è quello che ogni leader deve essere monofocus, monoidea. Se chiediamo ad una persona quali sono le tue priorità e lui inizia a dircene troppe perché non ha le idee chiare e se la sta raccontando. Nel caso del leader direttivo la monoidea è quella di risolvere le emergenze. Ciascuno di questi stili ha vantaggi e svantaggi e deve essere contestualizzato. Il secondo è quello autorevole e la sua monoidea è quella di riconoscere i punti di forza degli altri. L'affigliativo come monoidea ha quella di creare armonia nel gruppo. Il partecipativo come monoidea ha quella di ascoltare le soluzioni, ascoltare bene le persone per aumentare le possibili soluzioni. E poi il battistrada che come monoidea ha il concetto di seguimi. Ha uno svantaggio che molte volte si gira, non vede gli altri dietro perché va troppo veloce per essere seguito. E poi il modello del coaching che come monoidea ha ti aiuto a crescere. Successivamente è stato detto che per guidare con leadership dobbiamo conoscere quali sono i nostri ritmi. I ritmi ultradiani ne abbiamo molti durante l'arco della giornata e dobbiamo riconoscere i momenti in cui siamo pronti ad affrontare le situazioni a momenti di scarico. Si alternano ogni circa 90 minuti, due ore e abbiamo 20 minuti di scarico. L'esempio che è stato fatto di un grande leader studiato è quello di Napoleone. Gli è stato chiesto come vorresti essere dipinto e la sua frase è leggero su un cavallo imbizzarrito. La riflessione è stata non è che molte volte ci troviamo imbizzarriti su cavalli leggeri. Successivamente è stato visto il concetto di resilienza. Il concetto è la capacità di rigenerarsi di fronte alle difficoltà e le caratteristiche della persona resiliente che ha un autodialogo produttivo orientato al risultato e che impara sempre dagli errori. Sono stati visti alcuni esempi di persone resilienti, Shackleton e anche Milton Erickson e anche di comunità e abbiamo visto Firenze per le 60 alluvioni e ancora la città che conosciamo. Neuroscienze. Il cervello è plastico, crea nuovi collegamenti e sono stati visti che ci sono dei tempi. Dobbiamo tornare su un'informazione entro le quattro ore per far sì che questa possa essere consolidata e compresa. Poi quattro settimane è il tempo necessario invece per interiorizzare un'esperienza emozionale. Se faccio vivere un'esperienza emozionale alla mia squadra e dopo non ci torno sopra, quell'esperienza non porterà frutti sul lungo termine e dopo quattro mesi è il periodo per fare in modo che una nuova abitudine ne vada a sostituire un'altra. Taleb ha inserito il concetto nuovo rispetto a quello di resilienza che è il concetto di antifragilità e una persona antifragile ama il rischio, l'avventura, l'incertezza e la volatilità e la triade è la persona fragile che è la persona con la spada di Damocle sopra. Una volta che la spada cade ha finito il suo percorso. Oppure la persona resiliente che è la persona come l'araba fenice che si rialza dalle sue ceneri uguale a prima mentre l'antifragile è la persona che di fronte alla difficoltà ne esce migliorata. È stato visto come contestualizzare il concetto di antifragilità al metodo sfera dove i primi elementi ritornano, la sincronia chiaramente per trasformare il pensiero in azione, l'energia e dopo nuovi concetti, l'orlo del caos, la capacità della persona di rimanere in una situazione tra caos e ordine. Rimanere in quella situazione permette di abbattere degli schemi ai quali siamo abituati, quindi rimanere in quella zona intermedia e dopo la no sfera che è la mente dell'ambiente. Questo ci permette di riuscire a vedere cose e traslare cose che non fanno parte del nostro pensiero, inserirle nel raggiungimento dei nostri obiettivi. Alla fine l'ultimo esempio è l'archetipo folle che affronta le cose con leggerezza ma ce ne possono essere di diversi tipi, un tipo evoluto chiaramente e un tipo involuto, dipende da come vengono affrontate le cose. Un esempio di archetipo folle e evoluto che è stato affrontato è quello di Abraham Lincoln. Ci vediamo con la prossima mappa. Buon proseguimento.